La situazione è migliorata dopo la pandemia con l'arrivo dei vaccini contro il Covid-19 e questo risultato è il sforzo di coordinamento senza precedenti a livello ora. Abbiamo inviato distribuiti equamente i vaccini in modo equo, giusto e contestualmente, simultaneamente per tutti e quindi colgo l'occasione per ringraziare i colleghi che sono qui oggi a destra e a sinistra per l'eccellente collaborazione in questi tempi. Abbiamo anche lanciato i certificati comuni Covid-19 per sbloccare la situazione viaggi nel continente. Questo mostra quello che possiamo fare e raggiungere quando lavoriamo insieme in tempi di crisi facendo mostre solidarietà.